Io alzo lo sguardo verso di te Gesù, tu sei innalzato e per sempre sarai innalzato e quanti vogliono puntare il proprio sguardo a Gesù? Perché quando puntiamo lo sguardo da altre parti, ciò che ne riceviamo è tristezza, ciò che ne riceviamo è scoraggiamento, ciò che ne riceviamo... Realmente il nostro cuore viene tante volte inquinato da tutto ciò che guardiamo, ma quando guardiamo al nostro Gesù, ciò che ne riceviamo è pace e vera e noi lo vogliamo innalzare insieme in questo luogo. Gesù a te è la nostra adorazione. Gesù a te è la terra, non si è fermata intorno a me, confido in te, tu sei il mio Dio. Nell'acqua è più profonda, la mano tua mi aiuterà, confido in te, tu sei il mio Dio. Alzo lo sguardo verso te, per sempre sei innalzato, per sempre tu sarai innalzato. L'aiuto mio verrà da te, per sempre sei innalzato, per sempre tu sarai innalzato. Oltre l'eternità, tu regni con autorità, e ora sei qui, sei qui con me. Ciò che è impossibile, al tuo comando cambierà, e ora sei qui, sei qui con me. Alzo lo sguardo verso te, per sempre sei innalzato, per sempre tu sarai innalzato. L'aiuto mio verrà da te, per sempre sei innalzato, per sempre tu sarai innalzato. E sempre sarai innalzato. Lui è sempre stato Dio, e sempre lo sarai, lui non cambia, diciamo ancora insieme, ancora prima. Ancora prima che tutto iniziasse qui, tu eri Dio, tu sei il mio Dio. Le tue promesse mai, nessuno fece. Per sempre sei innalzato, per sempre sei innalzato. Perché sei Dio, sempre sarai Dio. Tu sei il mio Dio, sempre sarai Dio. Dio, sempre sei innalzato. Alzo lo sguardo verso te, per sempre sei innalzato, per sempre tu sarai innalzato. L'aiuto mio verrà da te, per sempre sei innalzato, per sempre sei innalzato. L'aiuto mio verrà da te, per sempre sei innalzato, per sempre tu sarai innalzato. L'aiuto mio verrà da te, per sempre sei innalzato, per sempre sei innalzato. Grazie a tutti.